Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda in prima serata su Rai 1 dall'8 gennaio 2005, con la conduzione di Millie Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. Ballando con le stelle è approdato sul piccolo schermo nel lontano 2005 e sono molti i concorrenti che si sono messi in gara, così come i maestri, i professionisti che li hanno guidati nel loro percorso. Uno di essi è particolarmente chiacchierato poiché sta per avere il suo primo genito dalla compagna. Si tratta di un momento particolarmente entusiasmante ed adrenalinico per la coppia che si appresta ad abbracciare il primo figlio. Si tratta di Simone di Pasquale che sta per divenire papà, la sua compagna Maria di Stolfo. 39 anni è incinta. Di recente ha rilasciato un'intervista per il settimanale di più svelando il nome del nascituro. Il bimbo si chiamerà Gabriele, è un nome per noi meraviglioso e simbolico, che abbiamo scelto perché un anno fa io e Maria abbiamo dovuto affrontare il dolore di aver perso, agli inizi della gravidanza, la creatura che aspettavamo.